qual è la ricetta perfetta per sorprendere una donna ti piacerebbe saper stupire una ragazza appena conosciuta ascolta i miei suggerimenti e scopri come fare una prima impressione da urlo come stupire una ragazza sette suggerimenti utili per sorprendere una donna premettiamo che ogni ragazza è diversa dalle altre in quanto a carattere gusti e chimica che può avere con te senza dimenticare le impressioni e le percezioni che si possono avere a seconda del contesto nonostante tutte queste variabili ci sono una serie di fattori che puoi controllare per stupire una ragazza e in generale per fare in modo di migliorare la prima impressione che dai segui questi sette consigli che sto per darti e vedrai che stupire una ragazza che ti piace non sarà più un enigma questi consigli non valgono solo per il primo incontro con una tua possibile partner sessuale o sentimentale ma valgono per tutto il processo seduttivo bene adesso vediamo come stupire una ragazza fin da subito 1 trovati un tuo look e vestiti con cura che tu ci creda o no le tue scelte di guardaroba dicono molto su di te per impressionare una ragazza non è necessario avere un incredibile senso di moda assacurare quattro fattori fondamentali ovvero colore taglio contesto e pulizia degli abiti scegli un colore che ti stia bene ed evita qualsiasi cosa troppo brillante assicurati che i tuoi abiti ti stiano bene vestiti in modo adeguato all'occasione infine assicurati che i tuoi indumenti siano puliti nel tuo armadio ci sono solo tute e felpe xxxxxx l scolorite bene se non sai quale può essere lo stile giusto per te o i vestiti che ti stanno meglio considera l'utilizzo di un sito come zalando ad esempio per avere un'idea su degli outfit e costruire così un guardaroba migliore in base alle tue possibilità puoi anche scegliere di recarti in un negozio di abbigliamento dove troverai in commesso pronto a consigliarti due cura l'igiene personale non rovinare le tue possibilità con la ragazza dei tuoi sogni per via di un orribile odore corporeo o una faccia da barbone le donne apprezzano gli uomini curati che sanno presentarsi in modo appropriato curare la tua igiene ti farà sicuramente guadagnare molti punti aumentando così le tue possibilità di stupire una ragazza in modo positivo fai una doccia usa l'acqua di colonia e non dimenticare il deodorante certo per qualcuno questi suggerimenti sull'igiene personale sono scontati ma se ne parlo è perché ho visto che con alcuni uomini c'è bisogno di specificarlo tre si è educato a nessuno piacciono i cafoni non dimenticare le tue buone maniere si è educato con la donna che stai cercando di stupire ma anche con le persone che incroci durante la giornata tienile la porta aperta ascolta quello che ti dice e si rispettoso con le persone attorno a te le buone maniere lasceranno sempre un'ottima prima impressione se vai a rivederti il servizio delle iene sul di me noterai che una delle ragazze approcciate davanti alla telecamera post approccio parla proprio di quanto abbia apprezzato il fatto che io fossi stato sempre educato con lei 4 stimola la conversazione mostrale che sei sinceramente interessato a conoscere chi è ti farà guadagnare punti punti utili a farla restare piacevolmente sorpresa dall'averti incontrato e conosciuto raccontarle una storia è un ottimo modo per voi due di legare su esperienze simili che potete condividere ricordati che nel mondo della seduzione lo storytelling è un'abilità fondamentale non solo rimarrà stupita dalle tue abilità comunicative ma ti permetterà anche di creare una connessione con lei ad un livello emotivo più profondo 5 sia autentico e a tuo agio fai attenzione questo è uno dei passaggi più importanti per impressionare una donna ricorda a te stesso che sei un uomo dal valore intrinseco e dunque abbastanza bravo da conquistarla tieni a mente che le ragazze possono dimenticare quello che dici le ragazze possono dimenticare quello che fai ma non dimenticheranno mai il modo in cui le fai sentire essere autentico ti permetterà di sentirti più a tuo agio e di avere più probabilità di stupire una ragazza 6 falle vedere che hai carattere dimostra subito le tue caratteristiche attraenti maschili alla ragazza prima ancora di chiederle di uscire essere un uomo che prende l'iniziativa positivo galantuomo e divertente può davvero stupire una donna in quanto le dimostra con i fatti che sei un uomo da non farsi scappare se ritieni che alla tua personalità manchi qualcosa concentrati sul migliorare la tua autostima con esercizi e nuovi mindset per esempio se tendi di essere pessimista stabilisci come obiettivo di identificare ogni giorno tre cose positive della tua vita col tempo inizierai a vedere più facilmente gli aspetti positivi della tua vita quotidiana e trarrai anche beneficio da una maggiore autostima un sonno migliore e una migliore empatia 7 valorizzati grazie ai tuoi talenti e alle tue passioni alcune ragazze possono trovare sorprendenti certi talenti e passioni in un ragazzo mentre altre no ma l'unico modo per scoprire se la lei davanti a te è stupita dai tuoi talenti unici e dalle tue passioni e cercare opportunità per metterti in mostra ad esempio se fai parte di una rock band o magari di una squadra sportiva invita la ragazza che ti piace a venire a una delle tue partite o alle esibizioni della tua band oppure se sei portato in un'arte come la scrittura o la pittura coinvolgila grazie alle tue creazioni ognuno di noi ha un valore intrinseco dentro di sé ma un conto è averlo e un altro è saperlo esprimere senza fare lo sborone è proprio sul saperlo esprimere che devi lavorare di più per capire come stupire una ragazza che hai di fronte e farle rendere conto della fortuna che le è capitata davanti in conclusione sebbene la prima impressione non sia tutto rimane comunque un fattore critico nel gioco della seduzione fidati di me sorprenderla in positivo sin da subito non potrà che aiutarti lavora su questi aspetti e vedrai che stupire una ragazza che ti piace non sarà più un'impresa così ardua questi erano sette suggerimenti utili per sorprendere una donna se il video ti è piaciuto o ti è stato utile metti like e scrivilo nei commenti se invece dopo aver sentito questi suggerimenti ancora non sei sicuro al 100 per cento su come stupire una ragazza prenota una consulenza gratuita con un nostro esperto e ci penseremo noi a farti capire come sorprendere una donna basta andare sul sito amicodeledonne.com registrarti e richiedere la tua consulenza gratuita mi raccomando iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nostri nuovi video diventa la migliore versione di te stesso imparando direttamente dai maestri dei maestri della formazione italiana in campo sentimentale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti